Guarda il cane che dorme Lo vedi? Guarda vediamo se riesco Oh Vabbè 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 quando gli fa gli occhi gialli E' nel flash Poverino Mi sa che gli fa anche male lo sai Ragazzi questo è Whatsapp Io sparo le cagate voi mi ascoltate Uno da Tokyo Uno da Voglio fare video sfogo Dai ma sono più famoso io di questi qui Dai Ma dai Ma che gente è oh Piacere sono Marco da Bologna Intervengo sempre alla trasmissione della Zanzara Di Giuseppe Cruciali Io poi non l'ascolto Avete visto questo divano? Bello comodo eh L'abbiamo preso a divani di... no Mondo sofà Comunque io ho il link Ma costa 300 euro eh Non è che costa Cioè voglio dire Il più economico che... no Il più economico è mondo convenienza Ma mondo convenienza sai com'è un po' così Ah le cagate che vi racconto Ah un po' di cagate Come stare sulla tassa... sulla tassa... Con voi è come stare sulla tassa del cesso Ah 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 Bello bello Mi piace il tubo eh Oh ma c'errò 3000 video ragazzi Cioè io... 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 A me mi contattano Gli sponsor più famosi del mondo Dico quattro minchiate E la gente mi stringe la mano E mi dà i soldi Questa è vita Questa è vita E capito? Andate a fare la muffa Dove è che lavorate voi? A fare... Non so I lavori forzati Non lo so Vabbò dai ci aggiorniamo Adesso devo fare un video dissing Ce l'ho sulla punta della lingua Ma sono indeciso Non datemi consigli eh Non datemi consigli Che fate bella figura